Cosa ci fa questo qui? È venuto a portarti il regalino? Che vuoi? Che cazzo ci fai qui? Volevo farti gli auguri, ti ho portato il regalo. Lorenzo vattene, hai capito? Te ne devi andare. Ti ho portato il tuo regalo, non me ne vado. Hanno paura, hai capito? Tanti auguri. Buon compleanno. Mottoli! Mottoli! Questa sera abbiamo un ospite davvero speciale. Lorenzo! Io sono davvero contenta di averti qui. Grazie. Tu adesso sei diventato un ragazzo ammirato in tutto il mondo. Sì, in effetti sì. Anzi, volevo ringraziare tutti i miei fan. Devo tutto a loro. Grazie. Ma come sono stati i tuoi anni da adolescente? A scuola come venivi considerato? Penso siano stati gli anni più belli della mia vita. Ero molto amato, avevo un mucchio di amici. Sono anni che non dimenticherò mai, quelli della mia giovinezza. Era tutto così magico. E gli amici come li hai in quel periodo non li hai mai più nella vita. Un mado di比 un anno. Un mado di ilсеo. Un mado di più. Un mado di più. Un mado di più. Un mado di più. Grazie a tutti.